Benvenuto al torneo ufficiale di Lotta Zero. Ci sono voluti 14 anni da quando ho avuto l'idea iniziale ad oggi, ma oggi ufficiamente comincia il primo torneo di Lotta Zero. Ancora qualcosa che può darsi che si aggiusteranno addomanti, però l'impostazione è buona. Goditi gli incontri e se hai qualche commento da lasciare, siamo già pronti a leggerli. Buona visione.